Festa di fine stagione del ricalcio, il più antico sodalizio chiavarese di terza categoria, un'occasione nella quale sono state presentate alcune importanti novità. La guida tecnica è stata affidata ad Andrea Bacigalupo, classe 1988, forse uno degli allenatori più giovani nella storia del sodalizio chiavarese. Andrea, quali sono le tue prospettive? Le prospettive penso che combacino con quelle della società e sono quelle di fare il meglio possibile nel campionato che verrà. Due anni che arrivano quasi a giocarsi play-off, quindi direi che l'obiettivo è fare almeno quanto gli ultimi due anni appena passati. Con quale spirito ti accinge a questa nuova avventura? Per me l'avventura è nuova perché è il primo anno che alleno una squadra di adulti, e incontrerò anche ragazzi, allenerò ragazzi che sono anche più grandi di me e sicuramente l'avventura è stimolante perché allenare adulti è diverso da allenare dei ragazzi come ho fatto fino adesso e da parte di me ci sarà il massimo impegno per dare quello che posso a questi ragazzi che mi sembrano comunque volenterosi di fare bene nonostante si possa pensare che la categoria sia una bassa categoria. Come vedi la terza categoria? Il campionato di terza categoria mi sembra un campionato combattuto rispetto a tanti anni fa la qualità si è alzata, meno un campionato magari fisico, ma ci sono giocate anche abbastanza discrete. Quest'anno ora non so bene la federazione come penserà di impostare il campionato visto promozioni e retrocessioni della seconda, fusioni varie nei campionati sopra, però mi sembra un campionato che sarà molto livellato perché penso che il Carasco voglia fare una squadra per riprovare a vincere, le due squadre retrocess che sono Vallentella penso che vogliano ritornare su e quindi penso un campionato equilibrato.